come forse qualcuno aveva già intuito dallo scorso video la birra di natale di cui vorrei parlare oggi è ovviamente un pezzo storico nella cultura brassicola belga e famosa ormai in tutto il mondo e stiamo parlando della still nacht vediamo subito la scheda tecnica di questa famosa birra come detto appunto stiamo parlando della still nacht birrificio è the doll siamo in belgio lo stile di questa birra è una curse beer o per attenerci alla codifica del bjcp è una winter seasonal beer categoria 30 c appunto del bjcp grado alcolico di questa birra 12 gradi bottiglia da 33 centilitri che ho acquistato in un beer shop a se non ricordo male un prezzo intorno ai 6 euro il bicchiere suggerito per questa birra possono andare bene sia bicchieri a pallone sia i bicchieri tulipano e non si tratta di un primo assaggio sulle birre di natale sulle cares beer vi rimando o all'ultimo video di qualche giorno fa sulla per noel o se volete un'introduzione un po più generale allo stile c'è il video della guten carlos noel registrato un anno fa sulla still nacht c'è da fare un piccolo discorso introduttivo perché c'è tutto un mondo legato attorno a questa birra sia per quanto riguarda l'invecchiamento e le degustazioni tipicamente in verticale che vengono fatte con questa birra in verticale quindi assaggiando annate diverse della stessa birra sia un discorso invece legato a una degustazione orizzontale quindi a batch diversi fatti nello stesso anno che a quanto pare cambiano sul discorso dei diversi batch su diversi quindi su diverse cotte diciamo di questa birra c'è un mondo l'ultimo articolo che ho letto pochi giorni fa credo fosse un articolo su il blog di cantina brassicola digitale vi lascio poi link qua sotto parlava appunto del famoso asterisco che si trova sul tappo infatti su ogni tappo di still nacht si trova scritto la data di imbottigliamento in questo caso ottobre 2019 e un asterisco due asterischi o tre asterischi in questo caso questa bottiglia un asterisco il che può fare pensare o meglio dovrebbe essere legato al fatto che sia il primo batch dell'anno quindi la prima cotta che è stata fatta di still nacht proprio oggi stavo leggendo alcuni commenti online ci sono persone che descrivono una bottiglia di still nacht aperta in questi giorni con due asterischi quindi un batch un batch numero 2 confrontate con descrizioni di persone che descrivono la degustazione del batch 1 e ci sono diverse differenze a volte anche significative sull'articolo però che citavo appunto poco fa che ho letto pochi giorni or sono c'era una dichiarazione del mastro birraio di the doll che affermava che le diverse cotte vengono blendate quindi vengono miscelate non sappiamo però se questa dichiarazione del mastro birraio è stata data perché fosse politicamente corretta perché qualcuno aveva fatto domande su un batch particolare dell'anno scorso credo fosse il secondo batch dell'anno scorso che io non ho assaggiato e che molti online riportavano avesse note decisamente funky per non dire brettate e che un po' andavano fuori stilo comunque erano diverse dalla still nacht a cui si era abituati bene appunto qualcuno sospetta che non sia davvero così che quella sia stata data come risposta formale ma in realtà si debba leggere un po' tra le righe e capire che no non è così i batch possono essere diversi la diversità tra le varie cotte è un po' una delle caratteristiche dei prodotti artigianali e per certi versi anche il fascino appunto di questo di questo mondo in realtà qui non sappiamo cioè io non so esattamente e ammetto di non aver bevuto così tanti batch ogni anno da poter fare una classifica generale di appunto delle principali di indifferenze fatto sta che appunto diciamo che la comunità online sostiene che sia stata una risposta questa qui del blend delle diverse cose sia stata una risposta molto di facciata e non attendibile al vero tanto che appunto bottiglie lette recensioni lette pochi giorni fa di bottiglie aperte quest'anno sono molto diverse siccome le persone che ne parlavano sono secondo me molto competenti quindi credo proprio che sia così le diverse cotte possono cambiare a volte anche molto ultima nota visto che abbiamo parlato della delle famose degustazioni in verticale che vengono fatte con la stilnacht sulle degustazioni in verticale non credo di aver mai dedicato una puntata specifica o ne ho parlato forse solo nel video sulla orval comunque una piccola nota che mi sento sempre di suggerire a tutti è sulla fiducia che bisogna riporre quando si fa una degustazione in verticale soprattutto se si acquistano bottiglie vecchie sulla fiducia che le bottiglie siano state conservate correttamente io non ho mai fatto una degustazione in verticale di orval cito orval perché appunto avevo fatto il video e perché sto tenendo ogni anno da tre anni no quattro anni ormai siamo quasi nel 2020 e ho già una bottiglia di fine 2019 quindi più o meno si quattro anni o una bottiglia per ogni anno che cerco compatibilmente con quello che riesco di acquistare anche nello stesso periodo dell'anno comunque questo perché se acquistiamo bottiglie molto vecchie non sappiamo chi ce le vende come ha conservato queste bottiglie perché se la bottiglia è stata lasciata un mese al sole o magari ha fatto ha subito sbalziterio comunque non è stata conservata in modo corretto ci perdiamo praticamente tutte le caratteristiche che la birra dovrebbe sviluppare nel nel corso del del tempo quindi l'ideale sarebbe ovviamente avere un posto fresco asciutto buio ovviamente a temperatura se non controllato comunque cercare di non lasciarla in un luogo che raggiunga i 30 gradi in estate ecco tenere lì le birre comprarle noi ovviamente senza passare per la gdo possibilmente se no ci perdiamo comunque le stesse abbiamo con cui gli stessi problemi e così via anche per la stilnacht io anche quest'anno ho comprato due bottiglie una l'ho messa nell'armadio dove ho anche le varie orval e queste invece l'apro l'apro adesso lunga introduzione ma era necessaria abbiamo già parlato del tappo bianco con solo appunto queste informazioni e la questione degli asterischi per quanto riguarda l'estetica concludiamo con etichetta appiccicata spesso male piccolina qui superiore con questo fiocco come se fosse appunto un pacchetto regalo e nella parte inferiore un disegno non particolarmente bello dal punto di vista estetico di un pupazzo di natale e appunto la scritta della verificio de dole stilnacht sugli ingredienti allora vengono indicati acqua malto d'orzo zucchero candito luppolo e lievito non viene indicato l'utilizzo di spezie negli ingredienti anche se sappiamo che una birra che al naso c'è sicuramente un intenso sentore speziato e una delle caratteristiche che non ho citato prima ma che è famosa che rendono famosa questa birra è il fatto che la bollitura del del mosto dura diverse ore questo non sempre avviene spesso per molte birre la parte di bollitura del mosto può durare all'incirca un'ora un'ora e mezza in questo caso invece non è molto più più lunga e poi beh c'è zucchero candito che viene aggiunto ovviamente nelle fasi finali ovviamente del processo di produzione ok passiamo finalmente all'apertura di questa birra il bicchiere in questo caso è un bicchiere a tulipano appunto come dicevo prima è brandizzato vabbè duvel ma è solo perché così capiente con questa forma avevo questo questo qui in casa mi fermo già perché c'è parecchio lievito che incomincia già ad alzarsi e quindi evito che il lievito vada nella nella birra questo appunto sempre per fare la prima analisi poi probabilmente a telecamere spente mi degusterò parte anche il lievito allora cominciamo come al solito dall'analisi visiva di questa birra la schiuma non è eccessivamente abbondante sembrerebbe al momento essere anche abbastanza persistente perché non si sta smontando con una texture regolare devo dire non eccessivamente fine ma molto regolare il colore di questa birra è chiaramente un colore direi già ambrato non è particolarmente limpida non credo sia questione di lievito perché mi sono fermato abbastanza presto proprio per evitare di andare a inficiare a modificare poi la limpidezza della birra direi che è leggermente velata ma proprio leggermente passiamo quindi alla parte più interessante di questa birra quindi all'analisi olfattiva già possiamo immaginare che l'intensità sarà piuttosto elevata perché mentre la versavo è già questa distanza arriva già un po di sentori di questa birra ma facciamo un'analisi più precisa beh se avevamo dei dubbi riguardo al fatto che i vari batch fossero blendati oppure no direi che questa annusata risolve qualsiasi dubbio perché ho letto poco fa la recensione molto attenta di un degustatore secondo me molto competente che parlava del batch numero due quindi due asterischi e parlava di un trionfo di spezie e di zenzero soprattutto già pensavo di aprirla e sentire alle note di una famosa canzone degli elio le storie tese in realtà è tutt'altro davvero se fossero stati blendati i due batch probabilmente ci sarebbe stata una via di mezzo alla cieca se dovessi annusare questa birra e leggere quella descrizione che ho appena letto appunto del batch numero due penserei si trattasse di birre completamente diverse perché in questo caso non dico che non ci sia la spezzatura al nado c'è sicuramente ma è in secondo piano da profumi innanzitutto fruttati e direi frutta a pasta gialla per essere più precisi c'è anche un po di di pera sicuramente è una speziatura sicuramente anche in questo caso ma non è così forte ma non è così prepotente questo trionfo di zenzero qui al naso non c'è proprio ci sono addirittura delle note vinose molto interessanti che fanno pensare a certi vini bianchi magari anche vini vini dolci ma non era sicuramente ciò che mi aspettavo da quella descrizione che ho appena letto quindi sì sicuramente stiamo parlando di batch diversi tutte queste differenze da cosa possono essere date non lo so e mi lasciano un po riflettere sul fatto che spesso la capacità di un mastro birraio di essere molto costante nelle sue produzioni viene vista in modo positivo in questo caso queste differenze da che cosa possono essere date boh non lo so e sarebbe interessante parlare con ovviamente sia con il produttore o con chi magari conosce meglio le dinamiche interne di questo birrificio o dei birrifici in generale del fatto che ci siano queste differenze insomma anche molto importanti tra due diverse cotte per riassumere quindi tutto ciò che è il naso di questa birra intensità media direi così frutta sicuramente spezia e queste note vinose molto molto interessanti passiamo quindi adesso al palato per quanto riguarda il palato sicuramente il gusto predominante qui è il dolce come in altre birre la dolcezza iniziale viene poi un attimino sostenuta da da un amaro a fine a fine sorso in questo caso l'amaro è molto leggero e soprattutto non è un amaro persistente ma anzi ciò che persiste però questa dolcezza del malto e ovviamente dello zucchero candito che viene aggiunto in questa birra altre cose interessanti beh sul retro alfatto e il retro gusto rimangono più o meno le stesse cose che abbiamo sentito con il naso quindi questo fruttato c'è sempre come spesso accade questo alcolico nascosto perfettamente non si sentono assolutamente i 12 gradi altra differenza con la descrizione letta poco fa appunto del secondo batch la seconda cotta che parlava di un etilico molto importante mentre qui l'alcol è perfettamente nascosto ancora qualche piccola nota vinosa si è presente ma delicatissima bisogna proprio cercare un po di concentrarsi di sforzarsi per andare a beccarla però appunto principalmente questo c'è anche sul retro alfatto ancora un pochino di speziato crossa di pane c'è tanto belgio ovviamente in questa birra ma appunto la cosa che più mi interessava e mi ha colpito è ovviamente questa grande differenza tra i due batch anche se ovviamente sull'altro devo dire che mi sono limitato a una descrizione seppur molto precisa ma una descrizione scritta e non ho potuto infilarci il naso questa era quindi la steel nacht anno 2019 un asterisco primo batch quindi scolla buon anno